Le indagini delle agenti del compartimento Polizia Stradale Piemonte-Valle d'Aossa di Torino sono scattate dopo che nell'aprile del 2018 a Chivasso, da un deposito carrozzeria, erano sparite nella stessa notte 4 Alfa Romeo. Nuove da immatricolare, già allestite con sirena bitonale e lampeggiante, destinata alla questura di Torino. Tutte le auto sono state poi successivamente ritrovate. L'episodio ha destato fin da subito particolare allarme tra gli inquirenti, poiché era certo che doveva trattarsi di un gruppo di persone esperte, almeno 4 o 5, che avevano intenzione di commettere gravi delitti. Il ritrovamento di un Alfa Romeo modello Giulia con targhe false parcheggiata sulla pubblica via in mezzo alle villette di Settimo Torinese ha dato il via alla complessa indagine, che dopo oltre un anno ha consentito di sgominare un articolato sodalizio criminoso dedito al furto al riciclaggio di trattori agricoli e macchine operatrici, che trafugati nel Porediese, nel Vercellese e nell'Astigiano venivano illegalmente esportati in Romania. Il gruppo criminale, composto da 4 persone, capeggiato da un 58enne di Ivrea, già conosciuto dagli inquirenti, poiché arrestato in passato per gli stessi delitti, in ore serali e notturni, si introduceva presso cantieri, aziende agricole e attività commerciali specializzate in rivendita di macchine operatrici, e trafugava escavatori e macchine in movimento terra di alto valore commerciale, che dopo essere stati temporaneamente nascosti in posti sicuri, spesso in zone boschive e di difficile accesso, venivano riciclati mediante alterazione del numero di telaio e poi venduti in Romania. Gli episodi contestati e accertati in un breve arco temporale, che va dall'aprile 2018 al giugno 2019, oltre all'Associazione per delinquere contestata solo a 4 indagati, sono circa 30 e risultano consumate Evrea, Chivasso, Settimo, Cavagnolo, Livorno Ferrari, Saramengo, Montanaro, Viverone, Caluso, Alice Castello, Borgodale, Gassino, Borgomasino, Maglione, Villareggia, Novara, Burolo e San Sebastiano Po. Tra i numerosi episodi accertati, relativi soprattutto al furto di trattori agricoli, spicca anche un furto consumato nel novembre 2018 e danni del comune di Strambino. Novi indagati avevano rubato dal mercato rionale, sradicandoli dal marciapiede, tre colonnine per l'erogazione di energie elettriche e acqua potabile, che i poliziotti della stradale, nel corso delle perquisizioni e arresti eseguiti nei primi giorni di settembre, hanno poi trovato e sequestrato in un terreno a Vigevano, ad uso in una famiglia di sinti piemontesi. Sulla base degli elementi raccolti dalla polizia stradale, il GIP del Tribunale di Ivrea, su richiesta dalla locale procura della Repubblica, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per sei persone, quattro delle quali catturate nei giorni scorsi e associate al carcere di Ivrea, mentre due sono in un momento ancora ricercate. Grazie a tutti!